in collaborazione con pastificio check-in l'amore per le cose buone fatte con le nostre mani prodotti check-in eccellenza quotidiana immergiti nell'atmosfera senza tempo di un mulino di ferro circondato dal verde e lasciati avvolgere dall'esperienza del cashmere più morbido ricercato avvolgente innamorati degli straordinari colori che il duca di san giusto seleziona ogni stagione con instancabile cura per te il cashmere del duca di san giusto la morbidezza è un valore la bellezza ai tuoi piedi con le calzature di comunello i marchi più prestigiosi la qualità del made in italy per essere sempre un passo avanti con la moda comunello calzature quartiere firenze bassano comunello emozioni moda viale più decimo san giuseppe di cassola aperti anche la domenica pomeriggio esci dagli schemi scegli il bello di comunello attenzione attenzione inizia la straordinaria vendita promozionale da tessilandia eccezionali sconti fino al 70 per cento su tessuti e arredo casa non perdere l'occasione i grandi affari ti aspettano tessilandia a cittadella mi sto preparando oggi per una puntata particolare mi trovo a cittadella in provincia di padua bellissima città murata parleremo oggi di bellezza personalizzata assieme a diego moretto titolare del salone head spa a due passi dalle antiche mura cittadine ciao ida benvenuta grazie diego grazie da dove arriva l'idea di questo salone questo salone è frutto di una ricerca approfondita che ho fatto intorno al mondo infatti sono rimasto all'estero per dieci anni e ho portato questo ho portato questo in italia con con grande soddisfazione e lo posso considerare quasi anzi lo considero il mio primo figlio ma chi è diego moretto lo chiediamo a chi da sempre lo segue nelle sue continue evoluzioni lo chiediamo ad elisabetta buongiorno elisabetta benvenuta chi è diego moretto diego moretto è un personaggio è un personaggio che ha deciso nel pieno della sua attività di rimettere tutto in discussione ha iniziato a fare un viaggio in giro per il mondo in cerca dell'eccellenza che avrebbe voluto portare poi qui a cittadella un'eccellenza che rappresenta la donna italiana nel mondo e noi ce l'abbiamo qui un'eccellenza anche come prodotti perché io sono entrata e ho sentito dei profumi degli aromi esatto sono dei prodotti veramente particolari anche questi sono frutto di una ricerca che è durata parecchio tempo da parte di diego moretto che alla fine ha trovato in questa azienda con azienda internazionale ma con sede in italia quindi promuoviamo anche il made in italy per un'azienda che è a base di prodotti assolutamente biologici naturali tutti rigorosamente confezionati su confezioni di vetro quindi abbiamo anche un occhio per il materiale reciclabile e soprattutto nel rispetto della natura dei capelli delle clienti di diego anche le colorazioni hanno veramente uno stile particolare perché tutte le confezioni sono rappresentate con dei tubi di alluminio per preservare le caratteristiche di una colorazione che anche in questo caso è assolutamente a base di principi naturali sempre nel rispetto e nel concetto che diego vuole portare avanti nella sua ed spa ogni donna è diversa e per te una donna poi diventa una tua creatura come infatti per me le donne non sono numeri ma sono delle persone che vanno studiate che vanno guardate che vanno osservate nel dettaglio e la consulenza è la cosa basica che noi tutti quanti i giorni facciamo per riuscire a capire come sono madri, mogli, imprenditrici e grazie a questo, grazie alla consulenza, riusciamo a trasmettere e a creare ogni donna con la singola personalità. La moda in assoluto dei capelli è la balayage, infatti la nostra lice sta procedendo con un balayage extreme, il balayage che cos'è? È una tecnica nata in Francia e quella originale è proprio fatta a mano, non ci sono stagnole e non ci sono fonti di calore, l'effetto della schiavettura è un effetto progressivo che parte da una base estremamente naturale e va a schiarire nella parte della lunghezza, richiama l'effetto del sole, l'effetto della balayage si può avere in vari colori, dal biondo, dal ramato che vedremo dopo, dal bruno e dal rosso. Per le bionde i colori devono essere pieni, rimpolpati e luminosi, questo è un effetto anche questo di balayage, schiarito in modo progressivo, ma l'effetto è molto luminoso, è molto pieno, è molto naturale e infatti richiama l'effetto del sole. Kevin oggi per noi ha creato questo stile di donna effettivamente mediterranea, un colore scuro, un colore vibrante, un colore con delle sfumature castagna eseguito con delle balayage, la balayage come vedete si sposa bene sia sui colori naturali, sia sui colori eseguiti e fatti e sia anche sui colori gramati, la balayage è in assoluto lo stile che dà naturalezza e morbidezza sia ai tagli strutturati e destrutturati e sia ai risi anche di caratteristiche piuttosto intense. Quanto è importante il taglio per il viso, per la personalità di una donna? Il taglio è fondamentale, è fondamentale e infatti negli ultimi tempi fortunatamente il capello lungo ha lasciato spazio al taglio, al taglio che noi con le nostre tecniche strutturate e destrutturate, cerchiamo di scolpire e dare le corrette forme a quelle che sono le varie conformazioni di viso. Questo colore creato da Senè ha creato questa sfumatura di base naturale, vinilica, con una lunghezza color caramello acceso che sarà il must della colorazione per l'autunno-inverno e che ci accompagnerà per i prossimi probabilmente forse 5 o 6 anni. Le teste colorate sono quelle in assoluto le più richieste. Qui stiamo creando un taglio destrutturato, un bob destrutturato, bello, naturale, soffice, leggero, adatto a tutte le donne che hanno tanti capelli. Che tipo di trattamento tu consigli per avere questi capelli, Viego? I trattamenti biodinamici sono i trattamenti per eccellenza che hanno il potere di riempire, di rimpolpare e effetto lifting tutti i capelli, nato soprattutto per i capelli un po' stanchi, un po' apatici, un po' stenti. Laura sta eseguendo un trattamento biodinamico. Biodinamico perché? Perché ha il potere di rimpolpare e di rinforzare il capello, come vi diceva precedentemente. È un siero con degli estratti di acido ialuronico e sali minerali. Viene passato ciocca per ciocca e ciocca per ciocca si passa questa piastrina infrared, fredda, che ha il potere di spingere all'interno del capello tutto quello che al capello serve. L'eccesso di prodotto che rimane in superficie è quello che verrà eliminato. L'effetto finale è sorprendente. È un effetto lifting, luminoso, bello, soprattutto per le donne che hanno la tendenza di avere un capello piuttosto spento e apatico. Il taglio giusto in base alla forma del viso, il colore personalizzato, un capello sano e curato. È fondamentale per la sicurezza e l'autostima di una donna, come la cura del corpo. Nello spazio wellness di Head Spa anche aromi e trattamenti estetici personalizzati. Qui la nostra Dari, ad esempio, sta eseguendo un trattamento all'acido ialuronico. Idratare, lenire, illuminare, aiuta a sentirsi bene con se stesse e a rallentare lo scorrere del tempo. Diego, abbiamo visto le meravigliose trasformazioni delle tue creature, ma con cosa si completa una donna? Il make-up, infatti, è quello che va a chiudere il cerchio di quello che è appunto la sfera femminile. E infatti Alessandro è colui che completa le opere che noi mettiamo in opera, appunto, con i capelli. Anna è il classico esempio della creatura di Diego Moretto. Anche nel mondo della cosmetica, io come truccatore visagista, seguo un certo iter, un certo progetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei, guardate che bel viso che ha. È un viso etereo, angelico. Basta pochissimo e la trasformiamo. La base sarà completamente luminosa. Cerchiamo di tenere un tono su tono, quindi non ci devono essere stacchi. Poi, importante, una leggera ombreggiatura. Andremo più sui toni caldi. I toni caldi funzionano bene. Su un occhio così si può anche mettere un tocco di grigio, perché il biondo ce lo permette. E la bocca sarà completamente neutra, naturale. Ecco la classica bruna di Diego Moretto, con le balayage color liquirizia. Se noi guardiamo attentamente, lei è la classica donna mediterranea, quindi sopporta molto di più il make up. Infatti, guardiamo bene, c'è un'ombreggiatura sull'occhio importante. La bocca la possiamo colorare. Poi, quest'autunno-inverno, ci sarà proprio il ritorno delle bocche colorate. Il mascara, ricordiamoci, andrà soprattutto sulle cilie esterne. Poi, potremo metterci un blush in questa zona, prova a sorridere, ok? Vedete, questo è il suo classico pomello. E la bocca, sappiamo che per disegnarla, bisogna sempre partire dal centro e andare verso l'esterno. Creare un mezzo arco. Ecco la creatura di Diego Moretto, color caramello. Guardate che bello questo cappello, mi piace tantissimo. E nel mondo del trucco, su una donna di questo tipo, sappiamo che la cosa più importante è proprio il colore del cappello. Cioè, è fondamentale. I toni, che noi utilizzeremo sugli occhi, se guardate bene, ok? Io ho scelto delle tonalità ramate. Vi voglio dare un consiglio da casa. Quest'anno, quest'autunno-inverno, si utilizzerà, ritornerà tanto l'eyeliner. E quindi adesso facciamo leggermente una riga di eyeliner. Questa riga di eyeliner potrà essere sottile, ok? O potrà essere anche bella spessa. Soprattutto su di lei, apri pure, che ha un occhio veramente con la palpebra grande. Diego, a conferma di ciò che ci hai presentato, so che tu hai un tuo slogan. Quando segui la moda, sei già fuori moda. E per questo vi aspetto in salone col mio fantastico staff. Grazie, grazie ai nostri telespettatori di essere stati ancora una volta con noi. Io vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di La bellezza allo specchio. In collaborazione con Pastificio Check-in L'amore per le cose buone, fatte con le nostre mani. Prodotti Check-in Eccellenza quotidiana Immergiti nell'atmosfera senza tempo di un mulino di ferro circondato dal verde e lasciati avvolgere dall'esperienza del Kashmir più morbido, ricercato, avvolgente. Innamorati degli straordinari colori che il Duca di San Giusto seleziona ogni stagione con instancabile cura per te. Il Kashmir del Duca di San Giusto. La morbidezza è un valore. La bellezza ai tuoi piedi con le calzature di Comunello. I marchi più prestigiosi, la qualità del Made in Italy per essere sempre un passo avanti con la moda. Comunello Calzature, quartiere Firenze e Bassano. Comunello Emozioni Moda. Viale Pio Decimo San Giuseppe di Cassola, aperti anche la domenica pomeriggio. Esci dagli schemi, scegli il bello di Comunello. Attenzione! Attenzione! Inizia la straordinaria vendita promozionale da Tessilandia. Eccezionali sconti fino al 70% su tessuti e arredo casa. Non perdere l'occasione, i grandi affari ti aspettano. Tessilandia a Cittadella. Tessilandia a Cittadella a Cittadella.